Ciao, questa è Irkutsk, una sorta di capitale della Siberia. Una ventina di gradi circa, l'aria è fresca, se sta bene vi porto per un gioco. Irkutsk, la chiamano la Parigi della Siberia, forse solo unicamente per questo lungo fiume. Una delle cose più tipiche di Irkutsk sono queste case in legno ormai fattiscenti. Sono sul targhetto che porta all'isola di Olko. Questo lago d'inverno è ghiacciato e le macchine passano. C'è un ghiaccio per attraversare. Bellissimo e c'è freddissimo. Dicono che porti bene lanciare le monete dentro al lago. Il ghioccolo dei soldi e le boettine bolacche. Non me lo so. Speriamo. Il paese è fantastico. La roccia sciamanica, l'isola di Olko, sul lago Baikal. Noi si incontrano amici sulla strada. Vedete, guardate la spiaggia. Bellissimo. La spiaggia di Olko. Bianco. 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 Eccola la roccia sciamanica. Eccola la roccia sciata. Bianco. e stabile fertigistico. Bianco. Bello. Grazie a tutti.